Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Racing Time, il Tg giorno del lunedì post gara. Non so se avete visto il video di ieri, ero veramente avvelenato e incavolato. Trattiamo nel video di questi due argomenti. Non che oggi non lo sia, lo sono ancora perché sono convintissimo e adesso ve lo faccio vedere un po' meglio con un'analisi più approfondita di tutto ciò che è successo e anche con qualche grafico. Sono convintissimo che la gara in Ferrari l'abbiamo buttata. Diciamo che abbiamo fatto la McLaren delle scorse gare, performance della vettura inclusa e ve lo faccio vedere in questo video. Poi sempre in apertura vi volevo dire una cosa, ovvero questa dovevo dirla qualche Tg fa, solo che me ne sono dimenticato, però siamo ancora in tempo. Se qualcuno di voi volesse andare a Singapore a vedere il Gran Premio, c'è un nostro iscritto al canale di cui vi lascio subito la mail, è franced98.com, che ha i biglietti per Singapore ma non può andare perché ha avuto un imprevisto. Quindi se volete fare questo colpo di testa e non avete ancora i biglietti, contattatelo via email direttamente. Detta questa cosa qua, ieri avete visto il post che ho fatto qui a Centuri per tutta la settimana festa, ieri spettacolo meraviglioso con Toti e Totino, due, un duo comico ma veramente silarante, mi sono piegato in due, ho pianto delle risate, credetemi ragazzi, e volevo fare i complimenti a questi due super comici che davvero non ci hanno fatto respirare tutta la serata per le sonore risate che ci siamo fatti. Bravissimi. Bene, quindi veniteci a trovare a Centuri perché c'è festa. Detta questa cosa qui, lanciamo anche oggi la sigla immaginaria perché ripeto ci sono troppi argomenti, non voglio allungare più di tanto la puntata e partiamo immediatamente con i contenuti di questo Tg. Allora, velocemente voglio innanzitutto rispondere a un paio di commenti che in merito a delle cose dette appunto nel video di ieri, anche perché i commenti sono veramente tanti, non riesco a leggerli tutti e se dovessi mettermi a rispondere lì a finire che non faccio tante altre cose, quindi preferisco farlo in puntata in pochi minuti. Allora, quando ho parlato di bannare, chi avesse messo qualunque tipo di commento contenente, odio, eccetera eccetera, secondo me ho fatto bene. Un paio di iscritti hanno avuto a che ridire, ma perché? Cioè, io voglio dire una cosa, potete criticare i piloti, i team, il sottoscritto, come vi pare, d'accordo? Ma con educazione. Io ho scelto questa politica se vedo dei commenti dove c'è dell'odio, incitazione all'odio, parolacce, volgarità, eccetera eccetera, io non ci penso neanche un secondo. Vanno chi le scrive. Credo di essere tutto tranne che criticabile per una scelta del genere che contribuisce ad avere una community fantastica, come tutti ci dicono. A iniziare da Lorenzo Librando, che vi ringrazia oggi mi ha mandato un messaggio, hai una community fantastica per il supporto che avete dato al suo video sul suggerimento del mio post. E questo è uno. Poi rispondo anche a chi dice che, e lo farò nel video, la McLaren era superiore a questa gara. Non è vero. Non lo era con le gialle, non lo era nemmeno con le bianche. Lo dimostrano due cose. La prima, che quando hai una vettura che si fa dietro tutta la gara, ma non dietro a due secondi, dietro in scia, in aria calda, sta vettura ha più passo di quella davanti. Non c'è dubbio su questo discorso qui. Non c'è dubbio su questo discorso qui. Quindi ragazzi fidatevi, Leclerc ne aveva di più di piastri. Ne aveva di più con le gialle, tanto di più. Non tanto sulla performance pura, ma sul fatto che le ha tenute per più tempo. Cioè nel senso che ha avuto per più tempo un passo migliore. Circa quattro decimi nel computo di tutti i giri fatti. Ne aveva di più con le bianche. E lo testimonia più di Leclerc che si è fatta tutta la gara in scia, che comunque questo vuol dire tantissimo. Poi ovviamente in aria calda gli ultimi giri non aveva più gomme, però tutta la gara dietro è stata. Ma lo testimonia Sainz, ragazzi, che arriva dalle catacombe e a fine gara si trova a ridosso dei primi. Cioè la Ferrari era la vettura migliore. Noi abbiamo fatto la McLaren della situazione, con scelte sbagliate, con del pilotaggio in alcuni momenti della gara non al top con entrambi i piloti e ve lo farò vedere in quest'analisi e con un muretto che non ha funzionato bene. Assolutamente no. E quindi sulla McLaren vi ho risposto. Sono d'accordo con chi scrive che è stata una bellissima gara. Al di là del risultato io mi sono divertito, bella, cioè no. Non facciamo i bugiardi, non mi sono divertito perché la Ferrari mi ha fatto soffrire tutta la gara. Però dai, una bella gara, tre in lotta, con vetture diverse per la vittoria. Perché vi ricordo che in tutto questo si è invitato alla festa anche Perez, che vedrete in quest'analisi se non avesse avuto in Norris un tappo per un giro di gara, poteva vincere la gara lui. Quindi la Red Bull perlomeno nelle mani di Perez c'è. E poi quando mi scrivete comunque dai un secondo posto è importante, sì assolutamente. In determinate occasioni un secondo posto vale quanto una vittoria. In altre occasioni invece ragazzi no. Qui la Ferrari era la vettura migliore e si doveva vincere. Bene. Detto questo, cambiamoci un attimo di stanza, andiamo nell'SNP per Megatech e analizziamo ciò che è successo in gara. Bene, bene. Eccoci qua, facciamo partire il nostro video. Partenza. Primo frame. Allora io dico, da che mondo è mondo? Chi è nelle piaziozole pari, quindi secondo, quarto eccetera eccetera, parte male, sto giro qui non è stato per tutti così. Andiamo a vedere per chi. Oscar Piastri è partito bene, ha mantenuto la seconda, anche complice a una partenza di Sainz non perfettissima da notare il distacco tra i due Ferrari. Perez è partito meglio, è partito veramente meglio partendo dalla quarta posizione, tant'è che poi a curva uno sarà terzo, sarà davanti a Sainz e anche lo stesso Verstappen è partito meglio di Russell. Quindi tutto sommato la fila dei pari per quel che riguarda la parte alta della classifica ha avuto la meglio. Andiamo avanti con il video. Non so se vi ne siete accorti, Perez ha rischiato di tamponare Piastri in frenata a curva uno. Poi altra cosa che vorrei mettere sotto la lente di ingrandimento. Adesso arriva, aspettate un attimo, stanno durando troppo questi frame la prossima volta e vi prometto che li faccio un po' più corti. Mi avete chiesto ieri in diretta opinioni in merito al contatto Stroll-Sunoda. Allora, rivedendole così, secondo me c'è un concorso di colpa, però Sunoda ha più colpe perché oramai Stroll era entrato e lui poteva lasciare più spazio, anche perché se andiamo a osservare la carreggiata in uscita di questa curva è molto larga. Questo è il momento del contatto tra i due che avranno poi dei problemi alle rispettive ruote che si sono toccate. La carreggiata in uscita era molto larga, idem al punto di corda, quindi Sunoda poteva lasciare più spazio. Ormai Stroll con la vettura numero 18 era lì. Poi ancora un'altra cosa che vi voglio far vedere, ecco qui. Allora abbiamo, come potete vedere nel riquadrino in alto a sinistra, Oscar Piastri iBox e Perez che sta per passare Norris che gli ha fatto da tappo e che probabilmente gli ha tolto la possibilità di giocarsi la vittoria, perché ci poteva essere il sorpasso, quindi l'undercut, di Perez a Piastri. Invece ragazzi non sarà così e in questo caso Norris è stato fondamentale per la vittoria di Piastri, perché cosa succederà? che in uscita dai box Piastri uscirà davanti a Perez. Qui invece abbiamo un altro grafico che ci va a indicare che Leclerc ha pittato un solo giro dopo rispetto a Piastri. Quindi se tu hai sei secondi di margine e pitti un giro dopo rispetto al tuo avversario ci sta tutta. Allora dove è stata questa perdita dei sei secondi? Andiamo a vedere un altro grafico, questo. Allora il giro dove non c'è il tempo che vi sta indicando la manina è fatto in 1,48 e 9 o 8 da Charles Leclerc. Conto il 49 e 5 di Piastri che già da qualche giro come potete notare dai pallini era in crisi. Poi Leclerc cosa fa? Da 48 e 8 si alza a 49 e 9 quindi ha un drop importante nella gomma. Già qui si doveva valutare di entrare ma non l'hanno fatto. Chi lo va a fare lo fa Piastri che fa il giro in, anzi il giro out cioè con ingresso ai box, in 1,53 e 5 sarà di 3 decimi più lento Leclerc al giro successivo 1,53 e 8 e altri 3 decimi li perde nel pit, altri 2 decimi li perde in percorrenza della corsia dei box. Dove c'è la grande differenza però, la grande perdita è nel giro di accensione della gomma bianca. E qui dobbiamo effettivamente dare merito al pilota della McLaren e demerito al pilota e soprattutto al box della Ferrari. Perché 3 secondi di differenza nell'introduzione della gomma, ragazzi sono una vita e mezza, non ci siamo assolutamente, non ci siamo. Ma la cosa assurda, non so se vi ricordate, è stato che Leclerc a un certo punto ha detto ma sei sicuro che devo introdurla così lentamente? Qui ho quelli dietro che stanno arrivando e Brian Bozzi, no no non ti preoccupare, non ti preoccupare, far durare la gomma è necessario, è più importante, non ti passano, se ti passano poi li ripassiamo. Più o meno questo adesso non ricordo le parole esatte, però il Leclerc che chiama il box e gli dice ma sicuro che devo introdurla così piano? Non posso andare di più? E il Bozzi che gli dice no 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 vai piano, non ti preoccupare, di loro introduci la gomma dolcemente, è il nocciolo della gara assieme al sorpasso subito che vedremo tra un attimo. Perché ragazzi è qui, e qui mi accendo, che non esiste, non esiste, cioè Oscar Piastri sapete cosa ha fatto? Ha disobbedito ai box, perché praticamente i box gli avevano detto, il suo muretto, il suo ingegnere, metti sotto pressione la Ferrari ma non superarlo, aspettiamo un calo di performance, classica strategia da ingegnere. E invece che cosa fa Piastri? Fa la classica strategia del pilota, se non avessi provato il sorpasso su Charles non sarei qui con la coppa del vincitore, ha detto. Già nel primo stinto ho visto Leclerc allontanarsi, così ho ignorato quanto mi aveva detto l'ingegnere, perché se la Ferrari fosse stata in grado di finire la gara mi sarei ritrovato beffato e non era entusiasmante l'idea di arrivare secondo. Wow, questa è poesia, ma sapevo di avere una sola opportunità, non ne avrei avuto una seconda, è stata una manovra d'altro rischio e sono rimasto piacevolmente sorpreso di essere riuscito a fare la curva per primo. Questo è, ragazzi, c'è poco da fare, questo è. Invece cosa succede dall'altro lato? Leclerc ha quell'ordine dei box, però al contempo doveva reagire lui, doveva dire me ne frego come ha fatto Piastri, vado un po' di più, qui mi passano, perché in pista ci sta il pilota e mi ritrovo per il secondo giorno consecutivo, anzi il terzo, a criticare un pilota che adoro, che adoro, però qui bisogna crescere perché quei 25 punti un po' mancano. Vero è che in casa Red Bull stanno andando male, che tutto potrebbe succedere, però è anche vero che stiamo vedendo a una Ferrari competitiva, che lo sarà probabilmente anche a Singapore e che ad Austin porterà degli aggiornamenti, come però li porterà alla Red Bull e se in Red Bull li azzeccano questo gli potrebbe bastare a mantenere questo vantaggio che hanno. Ecco perché in queste due gare si doveva mangiare più punteggio possibile ai rivali della Red Bull, anche per i piloti, non solo per i costruttori. Ed è qui che io dico che bisogna essere perfetti. Tutto qua, ci volevo arrivare così, scusatemi se mi sono infervorato di nuovo. Andiamo a finire questa nostra carrellata di immagini, perché dopo aver visto quando hanno cambiato e pittato tutti i piloti andiamo al sorpasso decisivo. Guardate quanto è lontano Oscar Piastri. Qui ci troviamo praticamente, eccoci qua, questa cosa vi volevo far vedere. La frenata avviene, vedete che qua ha già perso velocità poco fa, era 341, avviene poco prima, qua saranno 120 metri, del cartello dei 100 metri. Che cosa fa un attimo dopo Oscar Piastri, un attimo dopo aver passato questo tipo di cartello, va a scartare verso sinistra. Guardate un attimo che arriva. No, dov'è? Ah, non ce l'ho, non l'ho proprio presa per sbaglio. Comunque lì lui inizia a scartare verso sinistra. Ecco, questo scarto poteva benissimo essere chiuso, vista l'enorme distanza che c'era tra questo momento qui dove sono full gas e il momento in cui i piloti si sono attaccati ai freni, che è quello che state per vedere adesso. Ecco qui, c'è tantissimo spazio per fare la chiusura, qui non è stata fatta. Questo è stato l'altro grande errore del pilota, oltre a quello di non aver acceso le gomme nella giusta maniera quando hai uno dietro. Qui invece siamo nella lotta Norris Verstappen, che è stata incredibile, perché Norris si è dato una svegliata un po' troppo tardi, ma se l'è data, e in quella fase ha occupato tutta la pista. Guardate in questa fase qui che cosa fa Verstappen, dicendo di avere problemi ai freni che poi abbiamo visto non c'erano. Va in curva, questa cosa è, non ricordo, forse 11, all'interno apposta a tagliarla così. Ma lo sapete perché i piloti fanno questa manovra? Per disturbare il pilota che è davanti perché dice, oh mi sta attaccando e magari si allarga e perde tempo. Cioè è una manovra di disturbo per deconcentrarlo e indurlo all'errore. Bravo Max ad aver provato una cosa del genere, cioè ad averci provato. Dove è stato meno bravo Max? È nel confronto diretto con Perez. Qui Perez poteva vincere, lui invece è stato inesistente. Però non voglio pronunciarmi, magari non si trova assolutamente con la macchina in questo momento, però questo va a giustificare come è andato Perez precedentemente, prima di adesso. Cioè se tu fai una macchina che un pilota può digerire e guidare per benino, allora ci siamo. Il pilota di performance è l'ode a Perez che nonostante l'enorme periodo a livello psicologico difficile che ha vissuto, è riuscito a mantenere intatte la fiducia in se stesso e fare una prestazione di questo tipo. Qui sembrava che Perez avesse la vettura di Verstappen e Verstappen quella di Perez. Vedremo come andrà il prossimo Gran Premio e poi vedremo da Austin in poi. Magari la Red Bull prenderà una direzione di nuovo contro lo stile di Perez che però se tu lo assecondi lui salta fuori piccolo sassolino dalla scarpa che ci andiamo a togliere. E infine di questa lunghissima puntata andiamo al duello, vedete qui in aria calda tutto questo tempo le gomme le mandi in pappa, l'abbiamo buttata, fidatevi, l'abbiamo buttata. E infine andiamo al duello con Sainz Perez che arriva dalle catacombe. Allora qua ci troviamo in uscita da curva 1. Come potete vedere qui abbiamo la vettura di Leclerc, quella di Sainz, questa è la linea bianca, vediamo di chi è la colpa e questa è Perez che tra l'altro tutti e due i piloti, qui solo Perez poi anche Sainz, tra un attimo avranno il sole in faccia. Allora un po' lunghetta questa puntata ragazzi lo so ma per analizzare bene tutte le fasi di gara questo bisogna fare. Cosa succede? Si va avanti e come potete vedere ovviamente Sainz cosa fa? Va a spostarsi un po' verso sinistra. Però Perez non è così indietro perché se tu ti sposti da questo lato ti aspetti che lo faccia anche questo. Ecco perché in questo incidente io ci vedo un concorso di colpa con una percentuale maggiore di Perez su questo contatto però anche Sainz qualcosina ci ha lasciato. Cioè anche un po' è anche colpa di Sainz perché un attimo dopo lui cosa fa? Si sposta ancora di più, prendete come riferimento la linea bianca, verso Perez che però commette essendo dietro l'enorme errore di non andare verso sinistra. Se tu vai verso sinistra a un certo punto questo non ti può chiudere più e tu prendi la posizione invece lui rimane lì dove era. E questa è stata la grande sciocchezza fatta da Perez che influirà anche e ulteriormente sul budget cap della Red Bull ma anche Ferrari con i danni che ha riportato non è che sia andata benissimo. Questo è il momento in cui c'è il contatto praticamente. Questo è quanto. Io credo che qui la colpa sia più di Perez che non di Sainz però anche Sainz in questa fase qui ha indubbiamente le sue colpe. Da dove nasce tutto? Dal fatto che qui Sainz tira la staccata anche a Leclerc e fredando così tardi stiamo prima di curva 1, prima di quello che abbiamo visto, poi non riesce più come potete vedere a chiudere la corda di questa curva e di conseguenza da lì ci sarà il contatto. Vi faccio vedere anche un'altra cosa. Guardate non questa foto qui ma questa, cioè il duello Leclerc-Piastri in una condizione simile. Vedete? Piastri chiude e Leclerc va verso l'interno. Però Piastri chiude ma Leclerc è tanto indietro. Non è quasi con mezza macchina. Da qui la debolezza di Sainz. Bene, tutti gli altri discorsi li faremo nel video di questa sera assieme a quello che riguarda le ali immobili posteriori perché ho avuto delle info e vi dirò come si intendono muovere coloro i quali devono tutelare queste cose. Quindi stasera ne parleremo bene perché c'è anche quest'altra questione. Però non dobbiamo andare a pensare chissà che cosa perché vi do un dato. Allora Leclerc a DRS chiuso sviluppava una velocità di 321,11 km orari. Piastri con il DRS semi chiuso perché non ce l'ha avuto mai chiuso sviluppava a 324,06. Non è che andasse chissà che cosa. Andava forte per carità ma non talmente forte da far pensare che la McLaren fosse la più forte in questa gara. Con DRS aperto, Piastri fa 335,89, Leclerc fa 339,93. Quindi raga non c'è una vita in mezza. Però questa cosa è molto molto discutibile. ne parleremo nel video di questa sera. Mando un saluto brevemente a Manuel Rossi e suo figlio che ogni tanto si vanno a divertire con le legend car. Qui mi dovete scrivere secondo voi sono tanti a tanto alti loro o è tanto bassa la macchina perché mi domando come fanno a starci dentro. E niente vanno in pista. Li aspetto qui al talent che terremo a fine settembre. Vi invito nuovamente a scrivermi via email per ricevere il regolamento. Selezioni nazionali piloti chiocciolagmail.com. Bene ragazzi, io finisco qui questa puntata. Mi scuso se è stata un po' lunghetta ma doveva essere così. Mi mando un grosso bacio. Ciao, ci vediamo per il TG Notte. E' pieno 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 di argomenti. Ciao!